per tutti noi, per tutto l'Abruzzo della Pallavolo, io glielo ho sempre riconosciuto, inutile che mi ripeto. Mi fa piacere che in questo contesto, due settimane fa, forse molti di voi non c'erano, ma abbiamo dato un riconoscimento al vostro Presidente, l'Abruzzo Volley Award. Award quando è fregno. Perché era doveroso farlo e noi ci tenevamo a dare un segnale serio, concreto, un bel riconoscimento che dice che gli ha fatto anche piacere, quindi fa piacere anche a noi. La punta di diamante regionale Limpavi, dalla sua provincia e della sua città, Presidente Bisignani. Certo, tra le altre cose io ormai sono un veterano di questa presentazione e vedere un teatro pieno come adesso è qualcosa di meraviglioso. Quindi come hai detto tu, è il quarto anno che Limpavi riesce a fare un campionato molto impegnativo. Dobbiamo pensare che molte città, metropole italiane non se lo possono permettere. Quindi vorrei dare un grazie alla famiglia Lanci che ogni anno riesce a portare avanti questi progetti. grazie, grazie Presidente. Il Presidente voleva aggiungere qualcosa. Sì, io ho parlato del pubblico, ho parlato del club dei nostri tifosi, ma mi sento in dovere di ringraziare per l'anno passato e per il nuovo che verrà tutti i nostri collaboratori, che sono tanti. A loro va il mio grazie per essere partecipi a quelle che sono le esigenze della società. E' un piccolo particolare, lo voglio dare a new entry nei nostri supporti. a mio nipote, a me, Samuele. Grazie. Bravo Samuele. Grazie. Domani in casa, perché sei sempre impegnato a fare, a dire, sempre in palazzo. Grazie, grazie Presidente. Faccio, provo a vedere ancora... Come ti chiami? Grazie.